Antonio Partipilo Cominciamo con i numeri Due gol e due assist Sì, oggi diciamo che è stata a livello di eventi positivi la partita migliore della stagione però non penso a questo penso alla squadra oggi abbiamo fatto siamo partiti un po' così così però dopo siamo cresciuti tanto e nel secondo tempo abbiamo giocato da Ternano Allora, raccontaci due gol il primo più classico diciamo il tuo rientrare e calciare sul primo palo il secondo in contropiede Il primo, sì Paolo ha messo una gran palla sul secondo palo ho stoppato di petto e invece di aprirla come faccio sempre stavolta l'ho chiusa e mi è andata bene nel secondo è stato bravo Cesar mi ha messo davanti alla porta e io solo ho fatto gol La Casertana è partita bene meglio della Ternana poi sono stati i propri gol a cambiare l'inerzia della gara Ah sì loro comunque sono una squadra che come abbiamo visto anche all'andata ci hanno messo in difficoltà una squadra comunque tutti i ragazzi giovani rapidi diciamo che i primi minuti sono partiti forti e poi poi dopo siamo stati bravi noi a tenere botta e a fare due gol è peccato per il gol subito a un minuto alla fine del primo tempo però nel secondo tempo siamo entrati spensierati e abbiamo fatto altri tre gol Il prossimo avversario sarà il Potenza Sì sabato abbiamo un altro partito importante contro una squadra che diciamo vuole trovare punti per la salvezza noi andiamo lì come facciamo sempre con umiltà e consapevolezza della nostra forza e ce la giochiamo